chi inizia? tu hai? tu? ci sei anche tu tanto ripreso non mi interessa tu ciao a tutti ecco buono video ciao a tutti io la uccido lui è il mio fidanzato e insieme faremo vedere gli acquisti che ho fatto stamattina sì 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 tanto sei ripreso quindi ieri mattina e stamattina mi ha fregato stastro abbiamo preso questo completo letto da una piazza pagato da 21,90 a 12,90 c'era 41% di sconto piace? niente male non si esprime poi ho preso delle tazzine da caffè per i miei genitori solo che sono già se le sono già sequestrate a 3,50 euro 6 bicchierini da caffè giusto? giusto testimone stamattina siamo andati in farmacia ho scoperto come mai saprà a mezzo a youtube che ho che l'olio di ricino fa ricrescere le sopracciglia e rinforzare le ciglia abbiamo preso l'olio di ricino pagato 2,40 euro la mia paura di mettere lo stafale diventa volvere il bello che l'ha anche detto davanti al farmacista poi siamo andati da Tigotà giusto? va la conferma? eh siamo andati a Tigotà siamo andati a Tigotà ho preso questo elastico qua comunque con la scusa del video mi ha fregato eh per l'arco dei capelli la prova facciamo le prove facciamo le prove antipatico abbiamo preso a 1 euro e 1 euro e 20 queste salviette comunificate dalla mister clean all'olio di alzano 20 pezzi solo che a me non piacciono quelle che hanno la chiusura in plastichina perché si stacca sempre e si asciugano le salviette per 1 euro e 20 ma più che bene per 1 euro e 20 più che bene poi a questi che ci stavo dietro da un po' ho preso a 8 euro e 89 mi sembra questo simil bio olio dell'equilibra che si chiama il dermo olio multiattivo che formato per migliorare l'aspetto della pelle con cicatrici smagliature secchezza incarrato non uniforme segni del tempo 99 per cento di origine naturale senza parabeni, parafina, minerali, profumo e 99 per cento di origine naturali non è testato però è dermatologicamente testato non è testato al nickel quindi non è nickel? no è dermatologicamente testato per i pelli sensibili eh ma è nickel no dico perché è allergica al nickel va bene questo? in teoria si in pratica? non ci sa mi farò sapere leggete attentamente farò una recensione anche di questo visto che l'hanno tanto usannato come il facsimile del bio olio ma bio olio secondo me non lo batte nessuno poi ho preso sempre della mia marca preferita non lo saprete la delidea ho preso la crema gel in estetismi della cellulite c'è un p che guarda perplesso guardo crema gel anticellulite al peperose lime dematologicamente testato nickel tested solo ingredienti naturali no gm e pesticidi profumi coloranti no donatore di informal day con ingredienti biologici quindi per chi è allergico al nickel questo va bene tutta la linea dell'idea sia viso che corpo che capelli ho visto che c'è anche la linea per i capelli è adatta a chi è come me allergico al nickel dati questa ci hanno rilasciato anche il cupon volantino batte la pesca il volantino vi fa vedere c'è lo sconto però non so quando monterò il video però se guardate dietro questi volantini stavolta ci hanno messo sconto potete ritagliarli perché il caro commesso non me l'ha detto e non mi ha fatto neanche lo sconto poi da casa no la figurata mi ha finito passiamo la pista più bello più sofferto da zara se non l'avete capito zara sotto consiglio di qualcuno non è vero io non c'ero dormivo preso questa magliettina qui che bianca a righe nera e gialla ma devi allontanarla non si vede è lunga è un po grande ho preso la taglia più grande che c'era ma perché sta videocamera inquadra inquadra solo te il riconoscimento del volto ah certo a me il mio non gli piace l'ho pagata 5 euro e la mia discorso 95 guarda se non riconosce anche il tuo della linea join life che è quella un po più economica ti faccio pigliare un miliardo di visualizzazione e se non fate visualizzazione o vi iscrivete vi vengo a trovare a casa potete capire il carna letale comunque abbiamo preso questa gomma lunghissima che non so se si è vista tutto ho preso la taglia più grande perché mi piace vestire comodo a 9 euro e 95 questo color grigio scuro a me mi sa di verde scuro tra il verde e il grigio può essere tra il grigio si potrebbe boh non lo so della linea tra fallucca si già la tra fallucca pagata 9 euro 95 quando ma risparmio che c'era in completo anche la canotta sia così sia verde sia rosa cipria ma quando siamo tornati per andare a prendere ci è rimasto le donne qualcuno si è rubato tutti i top e così l'altro acquisto c'era però da oggi non c'è più perché avevamo è fallito è fallito miseramente grazie resi amazon perché avevo comprato un microfono per la videocamera che ci stavi prendendo adesso solo che una volta arrivato il microfono non andava bene non lo riconosce e ho dovuto rimandarlo indietro abbiamo cercato anche le recensioni insieme del microfono però tutti diceva che era un buon buon microfono però per la mia videocamera evidentemente io ho paura come ti ho già detto che non ha l'uscita per un microfono esterno e quindi non lo legge infatti ci stiamo si sta si sta organizzando per aumentare l'assessibilità di questa videocamera che io ve la consiglio sempre perché la qualità è ottima fa del video in buona qualità e un buon audio per chi magari come me ha un tono di voce più basso deve aumentare la sensibilità però chi ha una voce come lui abbastanza alta non avrà problema ecco quindi dico a quelli che guardano i video so che c'è il problema della voce ma non è che lo fa apposta e lei di cioè la sua voce naturale non è capace a parlare forte o giusto con ferro con ferro ma sono un po' più mirato per pazzo infatti questo video qua in teoria doveva essere una prova ma la signalia mi ha fregato facendomi fare video insieme a lei quindi boh non so comunque aspettiamo il reso amazon che mi hanno detto che è confermato però ci vuole 5-7 giorni quindi se acquistate su amazon magari un prodotto non vi piace organizzate subito il reso perché mi sembra che entro 21 giorni si può fare il reso forse anche un mese perché c'era il tempo fino a 6 giugno 6 giugno si forse un mesetto per l'abbia preso però non di più così la spedizione per rimandarlo indietro non la pagate è gratuita direi che va meglio così niente noi vi salutiamo iscrivetevi al canale mettete un bel pollice in su per questo video improvvisato perché ci sono io perché c'è lui ovviamente anche lui ha un canale però non vuole quale canale? non ho canale non vuole fare videogame i videogamer si ma con la mia voce no? che c'è? con che videogamer fare? io non so l'italiano tanto di sicuro si metterà andate a vedere questo che c'è? uno può fare anche video solo con la musica mentre gioca? muto disegni si metti sottotitoli se faccio un video che sottotitoli io sto invitando moltissimo moltissimo una youtuber che ultimamente sto guardando tantissimi dei suoi video qui su youtube si chiama la bambina che fissava che saluto è inquietante il nome però va a me però è... lo sto seguendo anche su instagram mi piace troppo mi piace troppo i video di The Sims 4 vorrei farli anche io perchè The Sims è uno dei pochi videogiochi che io gioco tuttora però devo organizzarmi anche col computer perchè il mio computer abbastanza vecchiotto quindi non lo terrebbe più visualizzazione soldi computer nuovo video di The Sims quindi video insieme di The Sims io scasso tutto no che mi serve la videocamera non la videocamera dai sims no The Sims piace pollici in su anche per The Sims ovviamente The Sims 4 che ho visto alla mod da Nadia Tempest che salutiamo anche lei non vedo l'ora di fare quella mod che mi piace troppo tipo tipo Super Study Instagram e ricordate di accendere la campanellina vicino al mio nome al nome del mio canale per essere sempre aggiornati sui miei video e niente noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao 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 a tutti ciao